Sarà una sfida sportiva quella denominata Twin Games che vedrà protagonisti i comuni della provincia di Pesero e Urbino e quelli gemellati della provincia di Lankreis-Rashtat. Un rapporto che dura da 20 anni, che verrà festeggiato con la presenza di 160 tedeschi che arriveranno a destinazione giovedì mattina. Parteciperanno all'evento i comuni di Fano, Montemaggiore, Cartoceto, Monte Felcino, San Costanzo, ma anche Saltara, Gabice, Serungarina, Gradara, Mondolfo e Pergola. A risaldare le relazioni di amicizia tra Italia e Germania, anche il sindaco Seri che dal giorno del suo insediamento ha continuato a rinnovare questi scambi culturali promuovendo al tempo stesso il commercio e il turismo. Una bella risposta ma soprattutto anche un'occasione di promozione perché come è venuto in passato, quando sono tornati da queste iniziative, ne hanno parlato bene, sono tornati altri. E' quadruplicata le presenze nel nostro territorio ma soprattutto è stato anche un bel lavoro di fare rete tra i comuni e le amministrazioni che spesso non collaboravano su queste cose. E tutto questo porta a un valore aggiunto quindi anche a ricadute economiche sul nostro territorio per cui sono molto contento. E' un'altra offerta, un'altra iniziativa che va organizzata nel mese di maggio che è un periodo di bassa stagione per il nostro territorio. Tante le iniziative in programma per questo fine settimana. La cerimonia d'apertura si terrà a gradare a giovedì alle 16.30 cui seguirà una cena a base di pesce a Gabice Mare. Venerdì invece, grazie alla collaborazione con l'associazione sportiva dilettantistica Sportland, le nuove squadre partecipanti, formate da 20 componenti ciascuna, in parte italiane e in parte tedeschi, si sfideranno nei diversi tornei ai Bagnarzilla. Una giornata dove gli faremo giocare a beach tennis, beach volley, basket, bocce, tiro con l'arco, per passare una giornata diciamo goliardica tutti insieme. Siamo stati molto felici come associazione sportiva di collaborare con il comune in questa iniziativa, così, per passare una giornata del mese di maggio sperando soprattutto nel bel tempo. Sabato invece la delegazione tedesca è attesa a San Costanzo per il gioco del bigliardino umano. La sera invece si terrà la cerimonia conclusiva allo chalet del mar con le premiazioni dei giochi del gemellaggio.